Ciao ragazzuoli e ben ritrovati qui sul mio canale oh finalmente sono ritornato a fare video di pokemon ma sono tornato a fare video con questa bellissima valigetta di Charizard Terra Crystal e devo dire che dentro a questa valigetta c'è un bel tesoro di pokemon e andiamo a vedere di che cosa si tratta ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e di lasciare un bel like per supportare il mio lavoro che tra l'altro queste valigette li potete trovare nel mio negozio ebay che vi lascio qui sotto alla descrizione e sempre qui sotto alla descrizione troverete un codice sconto del 5% con scritto Onite Gamer da poter utilizzare nel mio negozio ebay in più vi lascio anche il mio contatto whatsapp qui nella informazione quindi per qualsiasi informazione potete iscrivermi tranquillamente bene detto questo andiamo a vedere cosa ci andiamo a trovare in questa bellissima valigetta di Charizard Terra Crystal che a me la valigetta piace veramente tanto e devo dire che non è male come potete vedere qui c'è stampato ai lati sempre il mitico Charizard Terra Crystal qua abbiamo le tre evoluzioni dei starter andiamo a vedere cosa ci andiamo a trovare all'interno all'interno ci andiamo a trovare sei bustine di espansione pokemon tre carte olografiche dell'evoluzione dei starter una fantastica moneta pokemon quattro fogli di adesivi coloratissimi un mini raccoglitore per conservare le carte preferite e una carta codice pokemon live bene io direi di andarlo a aprire oh eccoli qua e all'interno ci troviamo quello che vi ho appena detto poco fa la moneta con le tre carte olografiche dell'evoluzione ah ecco aspetta queste guardiamo dopo bellissimi adesivi oh abbiamo un adesivo di Charizard Terra Crystal bellissimo un altro adesivo belli belli gli adesivi mi piacciono e poi infine abbiamo un raccoglitore di Charizard Terra Crystal bello mi piacciono soprattutto questo adesivo qua potrei utilizzarli e infine abbiamo il codicino caso mai ve lo lascio a voi ecco qua infine abbiamo sei bustine di pokemon in cui ci abbiamo allora è un bel misto perché abbiamo un paradosso temporale che è la prima volta che io li apro perché ancora non ho aperto nulla ossidiana infuocata cosa non male e in più abbiamo evoluzione a paldea ok io direi di lasciare per ultimi questi qua e iniziare con evoluzione a paldea ok bene iniziamo con il primo codicino per voi trick da uno e iniziamo energia base Fletty Ching Voltov Claver Tropius Valerio Duddun Spars Passimian la prima revesse di Mr. Evius la seconda revesse amuleto del coraggio e sotto c'abbiamo un Tinkaton holo rara niente prima bustina di paldea niente andiamo alla seconda e ultima di evoluzione a paldea codicino per voi trick da uno e si ricomincia energia base Waxley Carl Cadet Roll Raylorl Tad Bull drone da consegna Quarry Giraffe Speedol la prima revesse di Gotorita la seconda revesse di Pinchucin oh e qui abbiamo un Copperhide X bene ok ok va bene non ci possiamo lamentare dai abbiamo droppato con evoluzione a paldea questa di Copperhide X ok e fin qua va bene passiamo a Ossidiana Infuocata perché vorrei lasciare per ultimo Paradosso Temporale visto che ancora non li ho aperti quindi direi di lasciare i zari i zardi per dopo e passiamo con la prima bustina di Ossidiana Infuocata codicino per voi trick da uno e via vediamo di trovare una cosa di bello energia base cumbre diglett rovulet fattori birti charminio ex cadril bellissimo questo la prima revesse di bui falant non so se si pronuncia così uuuu charizard ex terra crystal god bellissima e sotto ci abbiamo un shizor oh madonna mia ragazzuali che tra l'altro io le avevo venute le mie ma bellissima questa mi sembra abbastanza allineata uuuu bene bene ottimo direi avete visto sta valigetta porta dei bei drop ragazzuali quindi approfittatene ad acquistarle nel mio negozio e bei che vi ricordo che vi lascio il link qui sotto alla descrizione e approfittate del buono del 5% che troverete sempre qui nella descrizione bello bello ok ok apriamo adesso questa di charizard e vediamo di trovarsi magari un altro bellissimo pull madonna mia bene bene per adesso sta valigetta paga paga un po' di cino per voi poveri miei capelli trick da uno e qua mi sembra di sentire qualcos'altro però boh energia base ivy toy school hondur kumbi bello suom sede della lega pokemon lunatone rock rulf reverse un'altra reversa malamar e sotto ci abbiamo un toxic tree city va bene va bene dai diciamo che ossidiana in fuocata mi ha lasciato un bel pull dai god e ora passiamo a questi due di paradosso temporale che sinceramente ripeto non l'ho ancora aperti ce l'ho in vendita perché ce l'ho in vendita quindi se siete interessati ad acquistarlo sempre qui su ebay nel mio negozio potete acquistarli però io ancora non l'ho aperto quindi sarebbero le prime proprio in assoluto ok ho codicino per voi trick da uno ho sentito qualcosa qua di ruvido potrebbe essere una god madonna mia energia base fuococo snorunt on non lo so orsea norman ciclizar theod scruel ok è una semplice carta normale però è carina questo andiamo a vedere sotto antemia reverso infatti avevo sentito avevo sentito qualcosa è una full art ragazzuali molto bella è fatta bene disegnata bene mi piace veramente tanto bene sto paradosso temporale ragazzuali siamo alla prima bustina abbiamo l'ultima ancora da aprire dai dai continuiamo e vediamo mettiamola qua apriamo questa e vediamo un attimo quello che succede codicino per voi trick da uno e via energia base yamash spinda tinka tinka tante mouse croccalor ambibum bambola snorlax la prima revessa di dievul di dievul seconda revessa di zubat e poi ci abbiamo un carganachi allora mi reso conto dei pull devo dire che questa valigetta secondo me a me ha pagato veramente tanto perché ci abbiamo trovato un evolucero a padea una ex e va bene ossidiana infuocata ci abbiamo trovato questo bellissimo charizard terra crystal god che direi che non è male e paradosso temporale abbiamo trovato un tabu cocò ex full art bene ragazzuoli il video è giunto al termine ditemi cosa voi ci avete trovato se l'avete già aperta se non l'avete ancora aperta li potete acquistare nel mio negozio e beh che vi ricordo che lo trovate qui sotto alla descrizione e poi mi dite quello che ci avete trovato ma se l'avete già aperta ditemi quello che ci avete trovato e ditemi cosa ne pensate di questo pool e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao